Ciao a tutti, io faccio parte, sono Max Lelli, faccio parte del team ENIT, ente nazionale del turismo italiano e niente, quest'anno è il secondo anno che faccio parte del Giro e un'iniziativa molto importante, noi abbiamo operatori che pubblicizzano a livello mondiale il Giro d'Italia, dunque il mio compito è quello di fare il capitano in questa squadra, chiaramente non è una corsa vera e propria, però cerchiamo di fare il massimo perché tutto si svolga nel migliore dei modi, questa gente si deve divertire e parlare bene del Giro d'Italia, i posti che abbiamo noi sono unici nel mondo, è una pubblicità importante e attraverso, come ho già detto ENIT, l'ente nazionale del turismo italiano, cerchiamo di promuovere il nostro territorio attraverso il Giro d'Italia. Grazie a tutti!